Musica Su autorizzazione del magistrato che ha posto sotto sequestro l'intera area ed ha aperto un fascicolo d'inchiesta nel cimitero di Santa Gada dei Goti, dove in seguito ad una frane crollata o nala, trascinando in un torrente un centinaio tra urne e bare, è iniziato il recupero dei resti delle persone tumulate. L'operazione avviata di Buon Mattino è affidata ad una ditta specializzata con il supporto dei vigili del fuoco. Il sindaco di Santa Gada dei Goti, Salvatore Riccio, ha annunciato che sono state recuperate otto bare intatte tra il dolore dei familiari. Gli eventi meteorologici certamente non sono più quelli di una volta e la natura lo ha già dimostrato con i diversi eventi alluvionali che hanno interessato la provincia negli ultimi anni. Per tali ragioni la manutenzione e la messa in sicurezza dei luoghi e dei territori deve essere una priorità. Per quanto riguarda il cimitero, l'amministrazione comunale di Santa Gada dei Goti nel 2016-2017 mise a punto un progetto definitivo e innovativo di finanza, proprio per intervenire sulla sua messa in sicurezza e non solo. L'area crollata era stata infatti oggetto di accertamenti anche da parte del genio civile di Benevento nel 2018-2019, che monitorava costantemente la situazione. Così i gruppi consigliari della PD e dei Goti al comune di Santa Gada dei Goti. Il nostro progetto, definito nella procedura, è stato però ritenuto improcedibile da chi si è susseguito al governo cittadino. È stato di fatti bocciato e annullato. Le soluzioni erano state individuate, definite, ma si è preferito non attuarle. Questa è la verità. Atteggiamenti vergognosi che meriterebbero altre conclusioni, ma questo appartiene alla non sensibilità dei singoli. Il consigliere di opposizione ed ex sindaco Carmine Valentino all'indomani delle dichiarazioni del sindaco Riccio in merito al crollo di un'area nel cimitero di Santa Gada dei Goti tramite la sua pagina Facebook ha dichiarato A chi doveva e non ha fatto, a chi è sfuggito ed ha schivato con indifferenza gli allarmi di tanti, oltre alla testa china, è consigliabile per Costoro un educato silenzio per rispetto verso la comunità. Tutta dolore e rabbia meritano rispetto. Atteggiamenti vergognosi. La redazione di TV7 SOS si è occupata ancora una volta delle conseguenze del maltempo dei giorni scorsi. La pioggia copiosa che si è abbattuta sul sagno ha inferto profonde ferite al territorio, come era accaduto anche nell'ottobre del 2015 in occasione dell'alluvione. Tra le aree geografiche più flagellate della città di Benevento figura anche Contrada a Malecagna, dove le telecamere di TV7 si sono recate per raccontare il disagio e i danni prodotti dalla quantità d'acqua che ha letteralmente travolto alcune abitazioni in via Vitulanese. Ascoltiamo il racconto di Gerardo Lombardi, affidato a TV7 SOS nell'intervista realizzata da Alfredo Salzano. Diciamo che la problematica che si è verificata nella serata del 17 è un ritorno di quella che si è verificata nel 2015, l'alluvione che ha colpito un po' tutta la città. Questa volta forse siamo stati alluvionati poche persone, tra cui noi, che ormai è diventata un problema. Non riusciamo più a vivere perché ogni volta che arriva un temporale forte stiamo sempre con gli occhi a guardare questo torrentino che costeggia la strada, dove circa 30 anni fa hanno avuto la brillante idea di eliminare un ponte. Infatti fino a 30 anni fa non ci siamo mai allegati anche con piogge torrenziali. Adesso l'hanno incanalato in un tubo di due metri e non riesce a sostenere tutta la portata dell'acqua e quindi si allarga sui laterali e noi avevamo fatto pure un muro e si riversa poi in questo giardino e poi prende tutta la parte sotto degli studi, dei garage e quant'altro. E quali sono stati i danni? Così facciamo comprendere anche l'entità di ciò che è accaduto. Ma diciamo i danni non sono quantificabili perché qui c'è uno studio di mio cognate che è un artista e quindi già nel 2015 aveva perso tutte le opere che aveva fatto, Arturo Pagano nello specifico e poi dal 2015 dove si era rimesso in piedi, diciamo grazie alla sua grossa volontà e forse anche al fatto che siamo una grande famiglia qui perché viviamo un po' tutta la famiglia Lombardi e c'è Arturo che è come un fratello. Ha ricostruito però alla fine, diciamo, ha subito di nuovo i danni maggiori perché tutte le opere che aveva fatto dal 2016 in poi sono andate a maggior parte quasi tutte distrutte. Il problema quindi, diciamo, i danni maggiori sono i suoi nostri, sono una cantina quindi dove ci stava freezer, ci stava materiale elettrico e quant'altro e qui dove era la vecchia falegnameria di mio padre dove ci stanno sighe, tutto attrezzi. Quindi diciamo, questa volta a differenza di sette anni fa siamo riusciti a mettere in salvo le macchine perché è arrivato di giorno e la cosa buona è che siamo riusciti ad aprire anche le fossette biologiche quindi in realtà l'acqua è riuscita a defluire un po' e quindi non è rimasto troppo al fango come l'altra volta. Però il problema, io non mi interessa che le istituzioni vengano qui a fare la passeggiata perché tantomeno voglio puntare il dito verso una persona singola perché non serve a niente. Io dico, ma si può sempre arrivare che forse ci deve scappare il morto e poi forse si mette mano a qualcosa. Abbiamo posto l'attenzione, ma non voglio fare la guerra dei poveri, abbiamo posto l'attenzione sempre su Pantano eppure l'altro giorno passavano vigili del fuoco, protezione civile e qua non si è fermato nessuno, giusto per dire. Il problema poi qua esiste e quindi se ci scappa il morto forse mettiamo mano. Ma dico, ma quando si fanno questi lavori, pure di indubbare un corso d'acqua, ma dico, quale capacità professionale si mette in atto una cosa del genere? Cioè voglio dire, si sa che un torrente, anche nel proseguo di quello che poi succede negli anni, perché visto che ormai gli eventi climatici stanno cambiando, dico, tutto quello che succede si dovrebbe prevedere. Se no è come quando facciamo una strada, la facciamo a destra, due corsini, quando ormai stiamo pensando di fare il raddoppio della Caglianella. Cioè mi sembra una cosa assurda. L'orchestra filarmonica di Benevento è stata nuovamente sul palco del Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento, diretta dal maestro Danila Grassi per il secondo concerto della stagione 2023. Star della serata, l'attore e doppiatore italiano Luca Ward, che è stato la voce narrante della grande fantasia zoologica Il Carnevale degli Animali, una favola in musica per due pianoforti ed orchestra composta di 14 brevi brani, ognuno dei quali riferito ad un animale specifico. Una pagina ricca di toni umoristici, sia nei testi che nelle musiche. Ai microfoni di TV7, l'attore e doppiatore Luca Ward, intervistato da Alfredo Salzano. E meno male che l'hanno riaperto, perché quando si chiude un teatro è sempre un lutto. E quando si apre, una nuova nascita, una rinascita, è importante. La cultura è la base del nostro paese. Hai trovato un'orchestra bella, pronta, che ti attenderà sul palco. La tua sarà la voce narrante, una voce come sempre d'eccellenza. Il nostro fiore d'occhiello in Italia. Come sono andate le prove? Benissimo, questi ragazzi sono talmente bravi. Poi io amo gli orchestrali, quindi sono sempre stato affascinato da loro. Sono bravissimi. Io faccio solo l'accompagnamento in voce, ma i protagonisti sono loro. Ecco Luca, che cosa sta lavorando Luca Ward in questo momento? Che cosa sta guardando? Beato che c'è un occhio, ma che ne so. Tante cose, tante cose come sempre. Noi viviamo di quello che viene, il nostro mestiere. Nasciamo precari, quindi non si sa. Senti Luca, come viene fuori il mondo dell'arte in questo momento, del cinema, del doppiaggio dopo il Covid, che cosa è successo? Anche questo è stato stravolto? Eh, è stravolto tutto. Guardavo il doppiaggio, adesso ci sono addirittura le intelligenze artificiali che doppiano gli audiolibri, no? Insomma, francamente. Io credo che le persone e l'umanità non si meritino questo. Poi per carità largo anche alle intelligenze artificiali che sono utilissime in tanti settori. Però laddove, no, l'arte, l'intelligenza artificiale, boh, ci azzecca a niente, insomma. Ecco, tu che vieni da una famiglia di doppiatori, una famiglia di artisti, insomma, di primo livello, ecco, sono cambiate tante cose. Ne parlavamo già un po' di anni fa nei nostri studi quando sei stato ospite. E' cambiato un po', sacrificando quello che poi sono le vere eccellenze dell'artistica? Ma il livello qualitativo è indubbiamente sceso. Sceso in una scala da 1 a 10 almeno di 6 punti, quindi tantissimo. Naturalmente gli utenti, cioè chi usufruisce poi di serie o film doppiati, si lamentano tutti, ma pare che dall'altra parte l'orecchio non ascolta. Prima o poi, alla fine, insomma, io credo che il doppiaggio andrà scomparendo. Dice sì, li vedremo in lingua originale? Sì, non capendo nulla, perché tanto noi l'inglese, come italiani, non l'abbiamo mai voluto imparare. E non lo impareremo mai, è inutile che questi continuano, perché non ci vada di studiare. E però c'è sempre un signore che in una giornata è riuscito a doppiare il gladiatore, con la qualità. Vabbè, ma quelli, è successo 22 anni fa. Il segretario generale della Sinappe, Roberto Santini, è stato in visita presso la casa circondariale di Benevento per raccogliere le richieste dei detenuti, accolto dal direttore del carcere Gianfranco Marcello. Un incontro teso a creare un clima di fiducia e serenità in un momento in cui le proteste nelle carceri sono all'ordine del giorno in Italia e mettono a rischio l'incolumità dei poliziotti e dei detenuti. L'ascolto come arma prima per una risoluzione concreta. Ai microfoni di TV7, il segretario generale del Sinappe, Roberto Santini. È emerso che lo stato di allarme c'era e continua a esserci, purtroppo. Purtroppo dovuto non soltanto dall'amministrazione penitenziaria, ma anche dalle varie amministrazioni che girano nel mondo penitenziario, ad esempio la parte sanitaria, dove l'assenza maggiore che noi abbiamo notato è l'assenza dei medici, medici psichiatrici. Noi abbiamo un problema serio che è quello dei detenuti psichiatrici. Una percentuale altissima e noi, se non vado errato, dai primi di dicembre che non viene il psichiatra all'interno dell'istituto. Quindi abbiamo detenuti in osservazione, ma questa osservazione poi chi la fa? Il poliziotto penitenziario, l'OS, questo è un problema che risentiamo e quindi è una concatenazione alla gestione del penitenziario. Abbiamo carenze di personale, abbiamo varie carenze, abbiamo un numero abbastanza consistente di detenuti, all'incirca 400 detenuti, ma con una percentuale di detenuti che psicologicamente stanno male e quindi hanno bisogno di queste figure. Come pensate di agire? La prossima mossa sarà l'incontro che abbiamo settimana prossima con il sottosegretario Andrea del Mastro, che lui già ha fatto un giro qui in istituto, subito dopo quando c'è stata quella tentata, manifestazione da parte della popolazione detenuta. Quindi rispolveriamo un attimino quello che lui, gli impegni che lui già ha preso, anche sul fatto dell'ASL, quindi dell'ASP, come la chiamate qui in questa zona. E quindi prende gli impegni che lui ha preso di portarli avanti. Noi a giorni, a giorni, insomma, entro l'anno ci saranno arruolamenti, quindi ci avremo nuovo personale, ci saranno dei concorsi, dei sotto ufficiali, è prevista assegnazione di alcuni sotto ufficiali. Quindi vediamo un attimino che, di affrontare quello che il mondo carcere, ma non soltanto di Benevento, dà le arpi alla Sicilia, insomma, in periodo un po' particolare. Non è facile, insomma, quando si gestisce un penitenziario e quando non ci stanno soldi, quando non ci stanno fondi, quando è fine anno e i fondi sono finiti, insomma, anche nella parte dell'amministrazione, però, insomma, ce la mettono tutta, quindi sembrerebbe che è stata affrontata e anche risolta. Carenza di persone, c'è, carenza di persone, c'è, carenza di agenti, assistenti, ma noi abbiamo carenza anche delle figure professionali, non soltanto il poliziotto, dall'educatore, dall'assistente sociale, ad altre, insomma, figure. Quindi, sì, la carenza c'è, la carenza cronica, con la speranza, dicevo prima, che con questi arruolamenti siano assegnati sia aspettori, sovrintendenti, nonché agenti assistenti, perché il carro trainante dell'amministrazione è comunque la polizia meditenziaria. È nata la Fondazione di Comunità Benevento. Angelo Moretti, infatti, ha firmato per la creazione di questa nuova rete sociale. La fondazione nasce con alla base un capitale di 900.000 euro, introiti messi a disposizione dalla società civile beneventana e da associazioni, quali Sali della Terra, Rete Sociale, Croce Rossa e Italiana, oltre al contributo di enti come la Banca Popolare Etica e l'Unisagno. Numerosi gli obiettivi prefissati dalla fondazione, che si snodano su quattro principali assi, quali salute e povertà sanitaria, povertà educativa, economia circolare e comunità energetica. Inclusione sociale, sviluppo sostenibile, saranno i cardini della fondazione che comincia da oggi il suo cammino, proseguendo nell'ottica di una rete comunitaria salda e tesa al futuro del territorio. Il prefetto di Benevento, Carlo Torrontano, e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, hanno firmato presso il Palazzo del Governo un protocollo che individua i rispettivi profili di specifica attività nell'attuazione del progetto Anziani in Sicurezza, finalizzato ad attività di formazione di informazione rivolte ai cittadini anziani al fine di stimolare comportamenti tesi a prevenire tentativi di truffe. Infatti, il comune di Benevento, individuato tra i enti potenzialmente destinatari delle risorse del Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell'Interno, aveva presentato lo scorso 19 settembre una domanda di contributo che, valutata favorevolmente dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata poi accolta dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno nei limiti del finanziamento previsto per un importo di circa 16.000 euro. Il più o meno di riseguaglianze, il più sono fragilità sociale, il più sono esposte le persone anziane a contraccolpi che derivano anche da una situazione economica molto feroce che alimenta anche irresponsabilità, illegalità e truffe rispetto a queste persone che vivono in città, magari quelli che sono soli in modo particolare. E quindi questo protocollo l'abbiamo firmato con il signor Prefetto assieme alle forze di polizia, il questore, il comandante di Carabinia e la finanza, servono insomma ad attraversare un guado per mettere al riparo le persone che hanno maggiori difficoltà e quindi come tale per evitare che ci sia questo contraccolpo nei loro confronti e quindi con maggiore tutela e con maggiore garanzia di sicurezza. Oggi in realtà abbiamo sottoscritto e formalizzato un progetto che era stato presentato precedentemente dal comune di Benevento a ballere su fondi del ministero interno. Il progetto l'avevamo vagliato in riunione tecnica di coordinamento con le forze di polizia per gli aspetti di nostra competenza e lo abbiamo poi trasmesso al ministero con parere favorevole. Il ministero l'ha ritenuto valido ed oggi abbiamo formalizzato. Il progetto verrà poi declinato praticamente dal comune che rindiconderà direttamente dal ministero. Voglio sottolineare con l'occasione che è un progetto praticamente importante perché va a svolgere un'azione di contrasto verso il fenomeno delle truffe agli anziani che è un fenomeno particolarmente odioso perché colpisce le persone anziane sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo della dignità della persona. È importante anche perché come voi ben sapete abbiamo avuto soprattutto nel capoluogo un innalzamento di questo fenomeno negli ultimi tempi. Quindi speriamo che con questo progetto si possa mettere in atto un'azione volta a infrenare il fenomeno. Sono 597 i neopositivi al covid in Campania su 8.608 test esaminati secondo i dati del bollettino della regione resta piuttosto stabile il tasso di incidenza che è pari al 6,9% tra i decessi nelle ultime 48 ore negli ospedali leggero aumento di ricoveri nelle terapie intensive con 18 posti letto occupati calo invece in degenza con 293 posti letto occupati In merito all'emergenza covid per il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel non abbiamo picchi o elementi di preoccupazione i casi di contagio non registrano elementi di particolare gravità dice nella consueta diretta facebook del venerdì ora vediamo la variante diffusa in Cina si arriva in Europa ma ad oggi non ci sono picchi il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha sollecitato alla regione l'integrazione del finanziamento per il completamento dell'intervento sugli aloggi di edilizia popolare a Capodimonte con una lettera inviata al presidente regionale della Campania Vincenzo De Luca e agli organi preposti il sindaco Mastella ha chiesto un immediato intervento della regione Campania per il reperimento di risorse aggiuntive allo scopo di consentire l'ultimazione dei predetti lavori sono stati presentati al sindaco di Castelpagano i lavori di ammodernamento del depuratore comunale da parte dei tecnici di Gesesa l'impianto di depurazione rinnovato ha una capacità di trattamento di servire fino a migli abitanti Gesesa ha eseguito interventi di innovazione e rifunzionalizzazione in cui si è data particolare attenzione oltre all'aspetto depurativo anche a quello di utilizzo di tecnologie avanzate Molta importanza è stata anche data all'aspetto energetico sono stati inoltre ricavati degli spazi dove saranno posizionati alberi di specie autoctona conferiranno all'impianto un aspetto più accogliente e un tocco estetico Sottoscritto a Palazzo Mosti il protocollo d'intesa per l'attuazione del regolamento riguardante la progettazione l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici a sottoscrivere l'importante intesa che consentirà di ottenere la massima efficienza energetica e sicurezza degli impianti attraverso procedure semplificate sono stati il comune di Benevento l'ASI SPA a cui è stato affidato il servizio di incontrollo degli impianti termici le associazioni dei manutentori e installatori con fartigianato i CLAI e le associazioni dei consumatori movimento di difesa dei cittadini e lega consumatori il comune di Benevento ha spiegato il sindaco Mastella era l'unico comune del Sannio che non esercitava controlli sugli impianti termici con evidenti ricadute negative sul piano della produzione delle polveri sottili e dell'inquinamento dell'aria di qui l'impegno da parte nostra come amministrazione di porre fine a questo vulnus e mettere in campo tutte le azioni possibili al fine di tutelare la salute dei cittadini con la firma di questo protocollo abbiamo inteso andare incontro ai cittadini e agli operatori del settore introducendo procedure semplificate che consentiranno di ridurre sensibilmente la burocrazia con un'ordinanza firmata dal dirigente Gennaro Santamaria è stata disposta per la giornata di sabato 21 gennaio la chiusura anticipata del mercato nell'area di Santa Colomba lo stop per la vendita mercatale è stabilito alle ore 10 mentre per le ore 11 c'è l'obbligo di lasciare liberi posteggi assegnati da merce attrezzature e veicoli presso la sede centrale dell'automobile club di Benevento la presidente Rosalia Lamotta ha organizzato un interessante incontro sul tema della mobilità stradale in sicurezza alla presenza del campione automobilistico nazionale il sanita Valentino Carofano il giovane telesino è un campione di sport automobilistico che onora il nostro territorio e per questo è stato nominato dall'ACI ambasciatore della sicurezza TV7 ha seguito l'interessante cerimonia nella quale sono stati annunciati i prossimi appuntamenti sul tema della sicurezza stradale che caratterizzeranno il 2023 con la presenza di testimonial di prestigio ascoltiamo le interviste realizzate da Alfredo Salzano l'ACI come tu sai perché mi accompagni sempre in quella cosa io faccia ha molti interessi a consolidare la cultura di responsabile conduzione di mezzi e quindi si dedica specialmente ai giovani nelle scuole e attraverso anche pubblicazioni cerca di comunicare ai ragazzi che è importante avere cura dei rapporti con gli altri allorquale si usa la strada che è un bene pubblico nella circostanza abbiamo pensato di unire a tutti i nostri strumenti anche adesso uno strumento diverso ecco noi proponiamo ai giovani un campione nazionale che ha conseguito il titolo di Gambione Nazionale a Monza pochi mesi fa perché questi possa comunicare la cultura di mobilità responsabile a tutti i ragazzi e questo è primo di un appuntamento che avremo nell'arco di diversi mesi e che vedrà il giorno 4 aprile addirittura la visita sul territorio di Andrea Montermidi che è un campione internazionale e che vorrà collocare con i giovani possibilmente i giovani prossimi alla patente i giovani universitari successivamente avremo una tavola rotonda che abbinerà la cultura veramente più che cultura lo studio del territorio e della mobilità e il rapporto tra auto e inquinamento grazie anche alla collaborazione dell'Enea che presenzierà la tavola rotonda e questo penso che avverrà a fine marzo anche questa in principio di aprile quindi questo è il discorso che noi intendiamo fare sul territorio per consolidare questa cultura l'ultima gara fatta a Monza è stata emozionante perché ha racchiuso un po' quello che è stato il finale di campionato un campionato in cui mi sono divertito molto abbiamo espresso molta velocità e siamo riusciti a portarla a casa questa sera sono anche molto emozionato perché essere qui è un qualcosa di importante soprattutto perché mi sento molto parte del territorio quindi mi fa molto piacere comunque qui nel Sagno nel Beneventano soprattutto ci sia questa passione per l'automobilismo e spero che venga portata avanti quindi anche in tema di sicurezza è un tema molto fondamentale le prossime tappe che ti vedranno protagonista e cosa stai lavorando? allora innanzitutto inizieremo con i test prestagionali per sviluppare quella che sarà appunto la vettura del 2023 e poi ci attendo un bel campionato italiano nel prossimo anno con tappe come Monza che aprirà quest'anno il campionato Imola Mugello Vallelunga e mi sono adriatico che chiuderà il 2023 Al termine della seduta di allenamento il tecnico giallorosso Fabio Cannavaro ha comunicato l'elenco dei calciatori disponibili per la ventunesima giornata di campionato serie BKT Benevento Genoa a lungo elenco di assenti si aggiunge anche il nome del difensore polacco Kamil Glick che per problemi fisici non aveva preso parte agli ultimi allenamenti gli assenti dunque saranno Letizia Leverb Masciangelo Sanogo e Vokic oltre a Fulon che dovrà scontare un turno di squalifica invece i convocati giallorossi per il prossimo match sono Abdallah Acampora Capellini Ciano Elquachibi Farias Forte Improta Karic Kusupias Kubica Lagumina Manfredini Simi Paleari Pastina Perlingieri Samba Schiattarella Teglio Beltri Veseli e Viviani Mi fa piacere ritrovare il mio capitano in nazionale ha detto Gilardino in conferenza stampa abbiamo vissuto momenti magnifici è un bel ricordo ci ritroviamo ad avversari in panchina ma ora dobbiamo pensare alla squadra stiamo vivendo un momento positivo per i risultati e l'atteggiamento ma anche dal punto di vista del crederci sempre ed essere propositivi questo deve sempre essere il nostro DNA il nostro atteggiamento quello di Cannavaro è però un Benevento in difficoltà incontriamo una squadra ferita che è stata raggiunta negli ultimi minuti dell'ultima partita una squadra che visti i risultati non sta attraversando un ottimo momento ma ha giocatori di qualità ascoltiamo i dettagli in conferenza stampa di mister Gilardino la stagione del Benevento sta prendendo una piega inaspettata e noi non vogliamo restare a guardare inerti in balia degli eventi non è più tollerabile l'atteggiamento di una squadra che in campo non dà segnali di vita andando in difficoltà anche contro avversari modesti adesso basta questa la voce della tifoseria organizzata della Curva Sud che ha esposto alcuni striscioni di protesta in diversi punti della città di Benevento ci siamo impegnati molto affinché avvenisse l'unione del tifo e i risultati nonostante qualcuno dica il contrario si vedono e si sentono chiaramente sugli spalti il sostegno non manca mai giriamo tutta l'Italia a nostre spese per la vicinanza incondizionata ai colori giallorossi tutto questo però non viene ripagato la cosa che più dà fastidio è la totale assenza di qualcuno che ci metta la faccia che dica le cose come stanno in un momento così delicato torneremo a cantare solo per la maglia nel secondo tempo vogliamo una risposta significativa da parte della società e della squadra perché la Serie B è un patrimonio troppo importante per questa città in prima linea lotteremo fino all'ultimo secondo per preservarla e voi cosa avete intenzione di fare con questo interrogativo si chiude il comunicato stampa di protesta della tifose riorganizzata della Curva Sud del Benevento Calcio è tutto con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone